L'informazione, i programmi e l'intera offerta del canale 633 sbarca anche sui cellulari e dispositivi mobili. E' arrivata infatti la nuova applicazione di Rossini TV, scaricabile gratuitamente dagli store digitali Apple e Android. Potrete essere connessi a Rossini TV, sempre e anche fuori casa. Grazie alla nuova piattaforma, si potrà assistere alla diretta del canale 24 ore su 24, rivedere le notizie degli spazi di informazione, Rossini News, Vallefoglia Magazine e Buongiorno Rossini, ma anche inviare segnalazioni con messaggi, foto e video. Sull'app di Rossini TV sarà inoltre possibile conoscere le proposte per pubblicizzare la propria attività. All'interno della piattaforma è presente la sezione Clienti, nella quale si potranno consultare tutti gli spot realizzati e le testimonianze dei clienti che si sono affidati a Rossini TV. L'accesso alla nuova applicazione permetterà anche a tutti gli utenti di conoscere le nostre pagine e account social. Il canale 633, a portata di un clic, è pronto quindi per arrivare su tutti i dispositivi Android e Apple. Rossini TV, vicina a te sempre di più.